Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV domani 25 luglio familiari e parenti daranno l'addio a Clarissa Bursi la quindicenne che ha perso la vita in un incidente con il suo scooter a Pieve Santo Stefano. Sulla vicenda stanno portando avanti gli accertamenti i carabinieri della compagnia di Sansepolcro. Il mezzo è stato posto sotto sequestro. Oggi la salma è stata esposta presso la sala mortuaria dell'ospedale di Sansepolcro. Clarissa frequentava il liceo Plinio il Giovane di Città di Castello. Una studentessa modello racconta chi la conosceva con la passione per il teatro. L'istituto ha deciso proprio di ricordarla con un post sulle loro pagine social. Muore giovane chi è caro agli dèi. Così scriveva il commediografo greco Menandro. Ti vogliamo ricordare scrive la scuola proprio così come interprete del nostro spettacolo teatrale incentrato sulla cultura greca. La comunità educante del liceo Plinio il Giovane si stringe attorno alla tua famiglia e custodirà la memoria di una ragazza solare e piena di vita. Ed è ancora in gravi condizioni il 38enne che ieri è rimasto coinvolto in un grave incidente con la sua moto e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale delle Scotte di Siena. L'incidente si era verificato alle 14 lungo la statale 73 nel comune di Andiari all'altezza del bivio per Catigliano. Anche per il 38enne si è trattato, come nel caso di Clarissa, di un fuoristrada che non ha visto coinvolti altri mezzi. Oggi sono invece due gli incidenti che sono accaduti nel territorio aretino. Il primo, lungo la regionale 71 a Dolmo, ha visto coinvolto un camioncino che è uscito fuoristrada sul posto, un'automedica di Arezzo, le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia e Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Trasportato in codice giallo alle Scotte di Siena un ragazzo di 18 anni mentre un uomo di 63 all'ospedale San Donato. Un altro incidente si è verificato nei pressi del cimitero di San Zeno. Ha visto coinvolte due auto sul posto, un'auto infermierizzata della Croce Bianca e la Misericordia di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Ferita una bambina trasportata al Meyer in codice giallo, un uomo di 68 anni, anche lui trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato. Adesso invece parliamo del virus sinciziale, una malattia che colpisce principalmente i bambini, al via in Toscana, la campagna di immunizzazione. La regione toscana è tra le prime in Italia a dare il via ad una campagna universale gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal virus respiratorio sinciziale, l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute e delle basse vie respiratorie nei piccolissimi, in particolare le bronchioliti. L'investimento della regione per questa campagna di immunizzazione si stima che supererà i 3 milioni di euro. La diffusione di questo virus nella stagione invernale comporta ogni anno un pesante impatto sui reparti di pediatria. Circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato e circa il 20% dei piccoli ricoverati ha la necessità di essere curato in terapia intensiva. Non mancano inoltre le possibili complicanze a lungo termine come il broncospasmo e l'asma. Nello scorso inverno i ricoveri per virus sinciziali in Toscana sono stati circa 800. Tra questi bambini 160 hanno avuto la necessità della terapia intensiva. Finora l'unica profilassi disponibile era un anticorpo monoclonale che richiedeva una somministrazione mensile rivolto a categorie di bambini ad estremo rischio di complicanze. Recentemente invece è stato sviluppato e messo in commercio un nuovo anticorpo monoclonale che ha mostrato un'ottima efficacia nella prevenzione delle infezioni pediatriche. Dunque i bambini nati tra il 1 aprile e il 30 settembre 2024 saranno immunizzati a seguito di chiamata attiva presso l'ambulatorio di pediatria di famiglia nel mese di ottobre. I bambini nati invece dal 1 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 saranno immunizzati presso i punti nascita prima della dimissione ospedaliera. Elisa Carloni è stata la prima donna ad essere stata eletta sindaco in provincia di Arezzo. venne scelta nel 1946 e guidò Castiglion-Fibocchi fino al 1949. La sua foto da oggi campeggia nella sede delle donne di Montecitorio e tra le prime cittadine ricordate a Roma proprio oggi durante la cerimonia che si è svolta alla Camera dei Deputati e che ha visto la partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Segretario di Presidenza Riccardo Zucconi, le deputate Laura Boldrini, Deborah Bergamini, Simona Bonafetti, Tiziana Nesini e la Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità della Toscana Francesca Basanieri assieme anche alla Presidente dell'Associazione Toponomastica Femminile Maria Pia Ercolini. Presente anche il Sindaco di Castiglion-Fibocchi Marco Ermini. Ci spostiamo adesso di nuovo in città ed esattamente in via Calamandrei mentre alcuni cittadini sui social ironizzano sulla finalmente strada ripristinata nella zona di Ponte Acchiani c'è chi addirittura grida al miracolo per questo asfalto diciamo così ritrovato, per via Calamandrei invece la situazione è ancora davvero molto critica. È un gruviera ormai da anni e niente, siamo rassegnati alla situazione praticamente buche dappertutto, da anni rattoppano continui ma niente di definitivo. Siamo proprio al peggio insomma, che è pieno di buche, si cammina soprattutto io vengo spesso in motorino, è una cosa indecente. Sono le condizioni ancora una volta di via Calamandrei a preoccupare i cittadini. Si tratta di uno dei principali assi viari e retini percorso giornalmente da migliaia di mezzi, molti dei quali pesanti. Pessime perché io ci ho portato tutti i pomeriggi, il mio marito perché ha fatto la fisioterapia qui, aveva dei problemi alla schiena dovevo andare pianissimo per le buche, per le cose. Molto pericolosa, ci sono molti incidenti, ragazzi che cascano con le moto, ci sono stati motorini, poi è molto trafficata e poco controllata. Nella zona è prevista la manutenzione straordinaria dell'asfalto. I lavori sono stati approvati e saranno esecutivi tra settembre e ottobre prossimi. Bisogna intervenire, bisogna rifarlo. Speriamo al più presto. Si tratta di un'asfaltatura profonda per il rifacimento del sottofondo sino al tappetino più superficiale, un intervento per circa 2 milioni di euro. Il tratto interessato va dalla rotatoria della Maestà di Giannino sino al Caffè Veraldi, poi dall'incrocio di Via Chiarini sino alla rotatoria di Chiani. Gli uffici tecnici dell'assessorato alle opere pubbliche e manutenzione stanno pensando di poter chiedere alle ditte incaricate di asfaltare di notte per ridurre così al minimo i disagi. Finalmente i cittadini sapranno come stanno le cose sul cantiere Mangiasoldi di Via Fiorentina. Così viene definito dai consiglieri del Partito Democratico di Arezzo 2020 e del Movimento 5 Stelle il cantiere che, come sappiamo, è in corso per la rotonda nella zona di Via Fiorentina. Proprio domani, 25 luglio, una parte del Consiglio Comunale sarà dedicato proprio a questo argomento. sarà una seduta prevista in questo caso per il pomeriggio in forma aperta sul tema appunto dei lavori che insomma si preannunciano già molto costosi. Un'occasione davvero importante per residenti, commercianti e cittadinanza non solo per dire la propria ma anche per conoscere finalmente il progetto, i suoi sviluppi e anche le sue tempistiche. E a proposito di strade, stavolta invece una buona notizia sul sito del Comune di Arezzo è più semplice, grazie ad un lavoro proprio dell'ente, trovare insomma numeri civici, strade, uffici, abitazioni. Sentiamo perché nel prossimo servizio. È in grado di individuare con precisione ogni abitazione del territorio comunale e di localizzare tutti i numeri civici anche nelle località non provviste di denominazioni stradali attraverso una mappa interattiva. Si chiama infatti SIT Sistema Informativo Territoriale ed è un servizio già attivo e consultabile sul sito del Comune di Arezzo. Il Sistema Informativo Territoriale era una piattaforma che era già presente nel sito del Comune di Arezzo. Ovviamente veniva strettamente utilizzata dai professionisti perché andava a identificare tutto quello che erano le pratiche più urbanistiche. adesso invece grazie all'integrazione che è stata fatta e al connubio di condivisione dei dati con il 118 ma in realtà anche con tutti gli altri operatori dei servizi di emergenza quindi mi viene da pensare alla protezione civile, ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine ecco che in questo caso qui i dati oltre ad essere analizzati e quindi gestiti per gli scopi più professionali vengono anche divulgati al cittadino e quindi il cittadino stesso potrà utilizzare il servizio del SIT proprio per poter individuare le zone interessate dalla geolocalizzazione che come è importante ricordare è legata a delle coordinate precise quindi dà veramente la precisione del luogo da cercare con lo scarto di errore di un metro quindi è assolutamente affidabile. Si può entrare ovviamente dal sito ufficiale del Comune di Arezzo quindi poi vai su servizi online e i servizi online ti portano ai servizi ai cittadini quindi per tutti e in questo caso qua ci sarà insomma il widget con il SIT che è appunto il Servizio Informativo Territoriale. Verranno mappati luoghi nevralgici dove si registrano gli schiamazzi notturni da segnalare alle forze dell'ordine e questo è uno dei primi risultati grazie ad un incontro che c'è stato tra alcune famiglie residenti nel centro storico di Castiglione Fiorentino e l'amministrazione comunale famiglie che avevano appunto segnalato schiamazzi notturni durante queste caldi notti d'estate. Chi vive nel centro storico ha detto il sindaco accetta anche ovviamente che ci sia più concentrazione di giovani o meno giovani ma non è disposto a privarsi del giusto riposo ci saranno più controlli e una maggiore attenzione in determinate aree del centro storico. Anche alla nostra redazione è capitato spesso di accogliere l'appello di chi possiede un amico a quattro zampe perché magari si era perso, si era smarrito e adesso arriva diciamo un sistema piuttosto singolare proprio per ritrovare i nostri amici animali appunto che si sono persi. Vediamo. Questa idea è nata da una grande passione che ho sempre avuto per i droni sono circa dieci anni che faccio con i droni normali poi una volta mi è scappato il mio cane solo tre ore diciamo proprio un minimo indispensabile per farmi andare in valvola completamente mi sono sentito perso ed allora dico devo trovare un sistema per potermi mettere anche ad aiutare gli altri che perdono i propri animali. Unire la passione dei droni a quella per gli animali per salvare così amici a quattro zampe scomparsi è questa la scommessa di Giovanni Mazzierli dalla quale è nato un progetto unico in provincia di Arezzo. I droni utilizzati hanno una termocamera per rilevare gli animali. Ti presenti nel luogo dove è l'animale scomparso cerchi di capire dove è andato da che parte è scappato più o meno quanto tempo è andato via in base a quelle che sono le abitudini anche dell'animale che è scomparso si iniziano le ricerche si fa una planimetria della zona si decolla impostiamo una missione partiamo e il drone va alla ricerca della fonte di calore. quando c'è luce ancora del giorno quando troviamo la fonte di calore passiamo dalla termocamera alla camera normale invece di notte cerchiamo la fonte di calore e poi con dei fari cerchiamo di illuminare l'animale. Giovanni non lavora da solo ma è affiancato da una vera e propria equipa. Lavoro anche con una veterinaria qui di Arezzo e con un addestratore giù del Val d'Arno che quando ha necessità di sapere qualcosa li chiamo, mi faccio dare informazioni e a volte partecipano anche loro attivamente. Nel corso dei mesi ha salvato cani, gatti ma non solo. Tutto, mucche, caproni, cavalli quello che uno perde noi andiamo a cercarlo. Qual è la cosa più bella di questa professione? La cosa più bella è vedere la soddisfazione delle persone quando gli ritrovi il proprio animale vedere quando riabbracciano l'animale vedere quello che... sono delle sensazioni bellissime insomma, chi l'ha provata solo chi l'ha provata credo lo possa capire. E siamo alla pagina della cultura questa sera ospitiamo nel nostro telegiornale la storia di Andrea Bindi un vigile del fuoco aretino che è adesso anche un poeta uno scrittore sentiamo Le caserme dei pompieri hanno tutte un nome e un cognome si chiamano come un amico un fratello un figlio che non c'è più potresti essere tu quando entri là dentro alle 8 ti cambi e lo sai che è solamente una questione di fortuna Andrea Bindi a retino vigile del fuoco da oltre 10 anni ci legge una delle sue poesie inserite nel suo primo libro fresco di stampa e già esaurito Inquieto vivere è la raccolta di quello che Andrea ha scritto e raccontato sui suoi social da figlio da padre da compagno e da vigile del fuoco con la passione per la letteratura e la scrittura C'è un po' tutto sì c'è sicuramente Andrea Pompiere tanto Andrea figlio moltissimo perché ci sono molte storie dedicate al mio babbo c'è tanto di lui delle storie divertenti anche delle storie meno divertenti perché insomma la vita è un po' così però c'è sempre comunque un messaggio di speranza alla fine di ognuna di queste storie la speranza per primo è quella di avere comunque sempre una valvola di sfogo per la sofferenza la mia è questa per altri può essere un'altra cosa la sua è stata definita una forma di poesia paratattica una metanarrativa che ha come oggetto la vita di tutti i giorni non ci sono molte sirene dentro non c'è tanto fuoco non ci sono esplosioni c'è il lato umano di fare il pompiere ok tutta quella roba lì chi cerca la retorica dell'eroe non ce la trova assolutamente può non comprarlo ci si trova l'uomo che sta sotto la divisa e ci si trova moltissimo anche l'uomo che una donna chiaramente intendo insomma la persona che ha bisogno dei pompieri quindi c'è tanto c'è tanto di arezzo nascosto che le persone non conoscono tanto che sta dietro le persiane dietro le finestre l'abbandono la gente che vive in casa da sola sicuramente il pompiere è un punto di vista estremamente privilegiato è più facile fare il poeta se fai pompiere secondo me il libro ha una copertina dedicata a Marilyn Monroe che gli è valsa la prima inaspettata telefonata poi l'altra inaspettata a sorpresa il libro è andato in ristampa appena tre giorni dopo la sua uscita sono stato contattato tramite la casa editrice e anche il contatto diretto ho avuto con il fan club internazionale di Marilyn Monroe che qui in Italia si trova a Lecco e li saluto perché è stata una delle telefonate più belle della mia vita il libro che ha questa copertina magnifica di Saraledda sarà esposto nella loro raccolta permanente gli oggetti dedicati a Marilyn Monroe l'introduzione invece è di Simona Viciani l'introduzione è di Simona Viciani che è stata lo spartiacque nella decisione di uscire o non uscire con queste poesie da Facebook ci siamo conosciuti per la nostra passione per Bukowski la mia è una passione la sua è un'arte perché Simona è la voce italiana di Bukowski adesso oltre a essere il doppiatore di Bukowski è la persona che ha dato la benedizione a Andrea per entrare nel mondo dei libri e infine la dedica ad un collega scomparso recentemente sì questo libro è dedicato a Dario è alla memoria di Dario che per me è stato Dario Perilli è stato un fratello un collega un amico un punto di riferimento professionale e umano il libro è dedicato a lui e mi dispiace che non lo possa leggere però forse magari l'ha letto prima ed infine siamo allo sport torna Alessandro Renzi che si lega all'Arezzo con un contratto quadriennale l'Empoli Club dove è cresciuto mantiene un diritto di recompra da esercitare eventualmente al termine delle prossime due stagioni una formula simile a quella studiata per Mattia Damiani con l'Udinese con il rientro di Renzi e la cessione di Sebastiano Bianchi alla Casertana all'Arezzo resta solo da trovare una sistemazione a Samuele zona terzino sinistro che il DS Cutolo sta cercando di sistemare a titolo definitivo novità anche in casa dell'Arezzo calcio femminile che accoglie in squadra la calciatrice Viola Bartalini portiere classe 2005 è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina prima di approdare la scorsa stagione in prima squadra vanta diverse convocazioni e presenze con la maglia della nazionale sia under 17 che 19 strutturata fisicamente forte sulle uscite alte e dotata di buona tecnica con i piedi è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione arrivederci grazie per l'attenzione